La 32esima giornata potrebbe essere decisiva per la vittoria dello Scudetto da parte della formazione azzurra. I partenopei festeggerebbero con sei giornate di anticipo, qualora dovesse prevalere contro la Salernitana e la Lazio pareggiasse o perdesse contro l'Inter a San Siro. Ascoltiamo la voce dei tifosi. Aspetto a che il Napoli vince naturalmente, anche perché ci sta una differenza tecnica fra le squadre notevole, quindi dovremo vincere. Festeggeremo. Le bandiere ormai sventolano da mesi. Non segue il calcio, però mi fa piacere che il Napoli abbia avuto questo riscatto, che poi tra l'altro va visto come riscatto generale. Vincere il migliore e che sia il Napoli però. Il Napoli vince. Le festeggerà? Assolutamente sì, con champagne, con amici e possibilmente andando anche in piazza a fare un po' di ammoglina. 2-0.